Ciao a tutti e bentornati nella foresta di Sherwood, bentornati al festival di Sherwood, siamo qua nello stand libri media e produzione, io sono Michele della webzine di Sherwood, vi ricordo che oltre a trovarci qui in carne ed ossa all'interno dello stand ci trovate anche in streaming, ci sentite anche in streaming sul sito www.sherwood.it slash streaming e questa sera hanno avuto l'onore e l'onere di aprire l'ultimo lunedì, l'ultima settimana di Sherwood i The Mills, indie rock per così dire, diciamo così da Vicenza, innanzitutto benvenuti ragazzi, come è andato il concerto di questa sera? Immagino che già tutti voi abbiate avuto modo di venire allo Sherwood, se non sopra il palco, magari da sotto il palco e come è stato, immagino, salire per la prima volta sul palco del festival di Sherwood questa sera? è sempre un bellissimo stare qui, non è la prima volta né da spettatore né di salitore di palcoscenico, si rimane sempre sorpresi dall'accoglienza, dalla bontà, dall'amore che c'è è evidente che ci sia, grazie a voi per la forza, disponibilità, energia e nonostante tutto e nonostante la quotidianità difficoltosa che appunto insomma stiamo vivendo tutti quanti assieme, grazie è sempre bellissimo essere qui, lo è stato stasera per noi, è stato forte e vero e grazie a voi e grazie a voi questa sera tra l'altro prima di voi si è esibito un vostro amico, avete portato un amico sul palco che è Nicola, che è qua presente con noi, che fa parte della famiglia dei De Mills come vi avete detto, e niente io chiedo un po' a Nicola di presentarsi e dire come è arrivato sul palco di Sherwood questa sera sì ciao io sono Nicola, per gli amici Nick, credo e niente scrivo canzoni da un po' di anni, scrivo musica, canzoni, in modo un po' generale e i miei amici lo sanno insomma queste ultime canzoni che ho scritto dicono che ti hanno incastrato no no in realtà sono io che ho incastrato loro perché appunto ho scritto queste ultime queste manciate di canzoni più magari anche altre negli ultimi anni che non ho ancora avuto modo di suonare dal vivo e sono tornato qua a Vicenza perché comunque sto all'estero e niente ho chiesto tra gli amici insomma se qualcuno aveva una data da farmi aprire insomma mi bastava una manciata di minuti e The Mills mi hanno sorpreso chiedendomi di aprirgli allo Sherwood che comunque già sapevo che era una data insomma per me l'avevo fissata per l'estate da venire come pubblico essendo un loro grande amico e fan e quindi è stato un onore insomma è stata una bella esperienza insomma anche suonare queste canzoni che non avevo ancora visto la luce beh grazie a te insomma grazie venendo un po' ai The Mills un po' al vostro sound al gruppo come tale una cosa che mi ha colpito sentendo un po' le vostre canzoni è un po' il piglio molto british che avete cioè a sentirvi cantare sembrerebbe quasi a sentirvi suonare a sentirvi cantare sembrerebbe quasi che siete usciti dai suborghi di Londra sarà un po' per l'accento che effettivamente sembra uscita da una di quelle serie tv tipo Misfits o dal sound che richiama un po' al Britpop un po' agli Oasis o andando dall'altra parte dell'oceano agli Strokes anche al Grunge o da Nirvana sono un po' questi i binari nei quali vi muovete è un po' questo quello da cui traete principalmente ispirazione Sì, lo siamo assolutamente di riferimento comodo e pratico almeno nell'ascolto mio e personale oltre all'aver vissuto nella città che hai citato per degli anni la derivazione artistica musicale passa da Londra a New York fine 90 e inizio 2000 quindi a Penello rispetto a quello che dici tu io credo che la forza di questo gruppo sia l'esplorare, il ricavare, il derivare da quello che in realtà arriva da 40 anni prima di tutto ciò che rimane la mia fonte compositiva la principale ispirazione di ascolti e di crescita se vuoi, insomma, adolescenziali anche che conseguono e proseguono in molti spettri che sono da qui ad oggi io immagino interessante assolutamente per noi musicalmente parlando perciò sì, arriviamo da Londra a New York arriviamo da quegli anni però stiamo andando in un futuro a noi cosciente e sconosciuto allo stesso tempo e quindi andando a parlare di questo futuro voi nel 2021 avete già pubblicato due singoli che sono A Liar in the Sun e Useless se non vado errato sono, come dire daranno luogo a un album in questo anno o nel prossimo futuro? A Useless l'8 settembre, sì per Disky Soviet è un album registrato in presa diretta con qualche over di chitarra però con l'intenzione e l'onestà che vogliamo essere vogliamo stare su un pancoscenico le chitarre non le ha fatte Federico Leder che è il signore distinto che ha suonato stasera è un altro signore distinto che ha fatto le chitarre Lorenzo Valè meravigliose all'outside-inside di Edelmet Bordin però appunto noi siamo io credo siamo un processo in evoluzione continuo abbiamo due mesi di prove alle spalle e due mesi e mezzo al più noi quattro da qui in avanti continuamente sempre di più mentre invece nel 2020 del 2020 è il vostro il vostro album di come dire di desordio che è Cherries che significa ciliegia se non sbaglio in francese e e che se non sbaglio su Bandcamp voi definite quest'album come il frutto di anni di incubazione il frutto da cui rinasco come un frutto dalle mie ceneri qual è il significato di quest'album qual è il significato della scelta di questo nome ovvero ciliegia l'idea del frutto che rinasce eccetera eccetera da cosa nasce quest'album? beh la rinascita un po' è un concetto che mi preme come il tempo e come la ricostruzione di noi altri come sai la ringiovanimento continuo e contigo delle cellule in se stesse Cherries e ciliegia è un quadro di Van Gogh in realtà adesso a me attiro un fiato vabbè è un i ciliegi di Van Gogh è un dipinto straordinario è meraviglioso io volevo solo i frutti i fiori mi piacciono parecchio e vedo in loro la vita la veridicità e la forza e la rinascita è un po' appunto una tematica che mi preme continuamente a volere a quanto meno pensare e Cherries poi sì il frutto il fiore che rinasce in tutto in questo oblio è pochezza e asfalto e autostrade e rimaniamo rimaniamo positivi con i fiori con i frutti rimaniamo visionari rispetto a una possibilità beh io vi ringrazio se non sbaglio voi avete qualche altra data nel prossimo futuro in programma se ci vogliete ricordare suoniamo venerdì a Mara Rock a Marano venerdì 23 tra qualche giorno beh in bocca al lupo allora io vi ringrazio e complimenti per il concerto di questa sera grazie a te davvero grazie a voi grazie grazie a tutti